Restano in carcere il nisseno Giuseppe Notarrigo, 33 anni, il sancataldese Francesco Casagni, di 25, arrestati e condotti in carcere nei giorni scorsi dagli investigatori della squadra mobile. Così ha deciso il GIP David Salvucci, respingendo la richiesta della difesa di applicare una misura più lieve. Secondo l'accusa, i due, che nel corso dell'interrogatorio hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, sono responsabili di diversi episodi di spaccio avvenuti tra Caltanissette e San Cataldo. Tra il settembre 2021 e il gennaio 2022 i poliziotti hanno accertato una serie di episodi di smercio di polvere bianca grazie a intercettazioni, appostamenti, fotografie e videoriprese. Già altri casi di spaccio nei mesi scorsi erano sfociati in arresti di presunti pusher e inoltre numerosi acquirenti di stupefacente sono stati segnalati in prefettura come assuntori. Gli avvocati difensori Ernesto Brivido e Calogero Buscarino presenteranno ricorso al tribunale del riesame.